La tecnologia Same presenta i tre frutteto serie 2 da 60, 75 e 80 e 85 cavalli. Trattrici specialistiche studiate per risolvere le esigenze della frutticoltura specializzata. L'applicazione elettronica gestisce al meglio e secondo specifiche esigenze le funzioni principali. Ciò rende i frutteto 2 altamente polifunzionali e produttivi. I frutteto serie 2 sono disponibili in versione con o senza cabina. Le dimensioni contenute permettono loro di lavorare sia nei filari più stretti dei nuovi impianti sia in quelli più bassi. Il basso centro di gravità e una gommatura da 20 pollici conferiscono loro la stabilità necessaria per operare in zone collinari con terreni declivi. L'ampia scelta di potenze disponibili permette di ottimizzare l'accoppiamento delle trattrici alle attrezzature e dal tipo di frutteto. Il motore Same serie 1000 a 3 cilindri eroga una potenza di 60 cavalli mentre le versioni a 4 cilindri aspirata e turbocompressa sviluppano potenze di 75 e 85 cavalli con riserve di coppia del 25% che conferisce al motore la necessaria elasticità per superare eventuali punti critici e per lavorare senza inutili cambi marcia. L'utilizzo di attrezzature innovative quali gli atomizzatori a basso volume di irrorazione richiede una precisa e costante regolazione del regime motore per assicurare in ogni momento l'esatta distribuzione di prodotto. A tale scopo i motori dei frutteto 2 sono regolati elettronicamente. Il comando avviene sia attraverso il pedale acceleratore sia attraverso l'innovativo acceleratore manuale in grado di memorizzare con semplice gesto il numero di giri motore necessari. Il lavoro è più preciso, minore l'inquinamento, maggiore il risparmio. Il perfetto accoppiamento con attrezzature si realizza anche attraverso una trasmissione con un elevato numero di rapporti perfettamente scalari. I frutteto serie 2 same dispongono di un cambio a 3 gamme e a 4 marce con inversore sincronizzato. Il Synchro Power, l'innesto elettroidraulico che duplica il numero di velocità senza intervenire sul pedale frizione, porta le marce utilizzabili nei due sensi di marcia a 24 e permette di adeguare in ogni istante della lavorazione la velocità del trattore in modo rapido ed ergonomico. La velocità massima di 40 km all'ora diminuisce nettamente i tempi di trasporto. I freni a disco in bagno d'olio sulle quattro ruote consentono una frenatura sicura e precisa anche con pesanti rimorchi. L'innesto della doppia trazione dei differenziali è di tipo elettroidraulico per un maggior confort di guida. Le PTO disponibili sono le 540 millegiri o la 540 economica studiata per garantire il minor sfruttamento del motore e ridurre i consumi di gasolio. Sia la presa di forza anteriore che quella posteriore sono innestate elettroidraulicamente. Per i rimorchi ad asse traente è disponibile la PTO sincronizzata. Anteriormente i Frutteto 2 dispongono del gruppo sollevatore e PTO da mille giri al minuto per i lavori in combinata. Il sollevatore anteriore originale SAME a controllo elettronico delle posizioni per una maggiore precisione e sicurezza di lavoro permette la riduzione dei tempi lavorativi diminuendo il numero di passaggi. L'integrazione nel cofano del sollevatore anteriore mantiene le dimensioni del trattore decisamente contenute. Il sollevatore posteriore con capacità di 300 kg è dotato di regolazioni idrauliche sia laterali che verticali effettuate dal posto guida. La regolazione laterale a comando elettroidraulico permette il controllo dell'attrezzo alla pendenza del terreno migliorando il lavoro dell'attrezzatura. L'impianto idraulico con pompa da 52 litri di portata dispone di 6 distributori posteriori e 4 anteriori. Abitabilità, comodità, comfort ed ergonomia sono le caratteristiche principali. L'accesso a bordo è facilitato dal posizionamento laterale delle leve cambio. Dal posto guida tutti i comandi si giungono con estrema facilità. Il volante è telescopico e i pedali sono di tipo sospeso. I comandi principali sono elettroidraulici per un comfort di guida eccezionale. La strumentazione oltre al check panel è costituita dal display a cristalli liquidi per il controllo delle funzioni operative del trattore. La cabina del frutteto 2 è studiata per garantire una facile e veloce a movibilità. L'operazione si esegue in soli 10 minuti. Vetrature e portelloni sono di tipo curvo per aumentarne la silenziosità. La visibilità dall'interno è massima. Pressurizzata e climatizzata questa cabina offre una sicura protezione all'operatore durante i trattamenti grazie anche alla disponibilità di filtri a carboni attivi facilmente interscambiabili. Gli specchietti retrovisori sono regolabili in modo tale da non ostacolare l'avanzamento in filari stretti. I parafanghi con le loro protezioni terminali evitano il danneggiamento dei frutti pendenti. In soli 30 secondi è possibile effettuare l'operazione di inversione del posto guida. Tutti i principali comandi del trattore sono disponibili anche in questa posizione. I frutteto 2 con guida retroversa sono decisamente più maneggevoli e polivalenti. L'elevata visibilità sull'attrezzo migliora sensibilmente il comfort di guida e la precisione di lavoro. Con un irroratore al traino le svolte avvengono più agevolmente. La disponibilità di un cambio laterale dolce e preciso dotato di inversore sincronizzato trasforma i frutteto 2 in una macchina specifica da lavoro quale il muletto. L'abbinamento con il sollevatore anteriore permette nuove possibilità di impiego più produttive ed economiche con riduzione dei passaggi anche del 25 per cento. Frutteto serie 2 same. Motori regolati elettronicamente. Leve cambio laterali con sincropower ed inversore sincronizzato. PTO economiche. Innesti PTO doppia trazione e differenziali del tipo elettroidraulico. Sollevatore posteriore multiregolabile. Sollevatore anteriore elettronico. Posto guida ampio e confortevole. Cabina amovibile. Guida reversibile. Same. Frutteto serie 2. La generazione futura.